Il primo andrumento è la distinzione tra gli elementi che compongono la musica. Noi professionisti non parliamo mai di musica, parliamo sempre di o opere o esecuzioni o fonogrammi. Su una registrazione musicale ci sono quattro soggetti che hanno quattro diritti. L'autore che è colui che scrive il testo, la musica di un brano, proprio la musica come la immagineremo nella melodia. L'artista che è colui che la suona, la esegue. Non è sempre la stessa persona, ci sono autori puri e anche esecutori puri. Il produttore fonografico è colui che paga la registrazione. Se io sono a casa e lavoro con il mio software musicale e mi registro, sono io il produttore. Se vado in uno studio di registrazione e lo pago, sono io il produttore. Se un'etichetta mi chiamo in studio a registrare, è lei il produttore, perché paga lei. E il quarto soggetto è l'editore musicale, colui che acquista i diritti sull'opera e cerca di promuoverla affinché questa generi proventi i diritti d'autore. Per cui gli autori e gli editori lavorano sull'opera, l'artista e il produttore lavorano sul fonogramma. Quindi noi non parliamo mai di musica, parliamo o di opera, diritti dell'autore, o di esecuzione, diritti dell'esecutore, o di fonogramma, diritti del produttore.